in quei giorni maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di giuda entrata nella casa di zaccaria salutò elisabetta appena elisabetta ebbe udito il saluto di maria il bambino sussultò nel suo grembo elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò gran voce benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo a che cosa devo che la madre del mio signore venga da me ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il signore le ha detto allora maria disse l'anima mia magnifica il signore e il mio spirito esulta in dio mio salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata grandi cose ha fatto per me l'onipotente e santo è il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili ha ricolmato di beni negli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote ha soccorso israele suo servo ricordandosi della sua misericordia come aveva detto ai nostri padri per abramo e la sua discendenza per sempre maria rimase con lei circa tre mesi poi tornò a casa sua maria si alzò e andò in fretta spesso signore gesù schiacciato dal mio peccato dalla presunzione di vincerlo da solo dalla poca fede che tu possa cancellarlo cosa che in concreto hai già fatto mi impedisce di alzarmi e anche di aver fretta quella di amare di fare il bene senza indugio donami la fede di colei che ha creduto una fede che va oltre l'immediato della mia pochezza ti ringrazio per averci dato una donna così grande grazie signore grazie maria per il tuo piccolo grande si il bambino sussultò nel suo grembo letteralmente saltellò quasi volesse uscire dal ventre materno l'incontro con gesù non può lasciarci inermi statici fisicamente e spiritualmente ti chiedo gesù per intercessione di tua madre e mia colei che subito si è alzata in fretta e partita e di giovanni già scalpitante per te al sesto mese di vita la fede che sposta le montagne ma ancor prima i cuori il mio a volte mi sembra di pietra e pesante rigido bloccato benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo insegnami elisabetta a dir bene di dio figlio di dio spirito e di dio padre quanta fatica a lasciarmi abbracciare da qualcuno che evidentemente continua a considerare un giudice e dei fratelli che ogni giorno mi ricordano dovrebbero che tutto comincia dal parlar bene degli altri primo passo per iniziare ad amarli davvero appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi insegnami ancora elisabetta ad accorgermi del saluto di dio nei miei confronti quel saluto quotidiano capace di far sussultare il giovanni che è in me cioè la volontà e il desiderio di annunciare gesù a chiunque incontri e in maniera decisa attente e discreta ma senza compromessi beata colei che ha creduto maria sei grande perché hai creduto ti sei fidata così giovane era così assurdo strano difficile hai creduto brava sei beata mia madre nella fede in risposta ad eva che non credetta le parole del creatore ti chiedo il dono della fede quella capace di vedere il bene e la salvezza già attuata anche per me oltre il mio peccato nonostante il mio peccato forse proprio in virtù del mio peccato donami la gioia di essere salvato proprio in quanto peccatore ti voglio bene maria aiutami a volertene di più ti voglio bene gesù aiutami a volertene quanto maria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.